Ladri smascherati dai carabinieri di Montevarchi attraverso l'ascolto delle testimonianze ma anche attraverso precisi esami dattiloscopici. I militari dell'arma si erano messi in moto dopo una raffica di furti accaduti a Montevarchi proprio in questi giorni di shopping natalizio. Quattro i casi di furto che avevano stando alle risultanze dei carabinieri la stessa mano. Complessivamente l'uomo accusato di furto aggravato avrebbe portato via tre smartphone del valore complessivo di 2.300 euro. Secondo quanto riferito dai carabinieri era riuscito anche ad impadronirsi di alcune carte di credito prepagate utilizzate per effettuare in modalità contactless acquisti di vario genere per lo più alimenti, tabacchi e monopoli per un importo complessivo di quasi 600 euro. Un'altra serie di furti invece in particolare di salami di grossa pezzatura in un noto centro commerciale di Montevarchi avrebbe la firma di due giovani di origine albanese di cui uno pregiudicato che avevano pagato 7 euro di merce portandone via per 600 euro. Per entrambi è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.